eccoci ben ritrovati posto finale della partita portogallo uruguay 2 a 0 adania la faccia tua è riuscito a dire che non era rigore non era rigore quello del portogallo questo prende la palla di mano cade perché è scivolata ci può stare ha detto scandaloso con l'altro bizzotto perché si vede che con adani è così proprio ha detto fuori logica addirittura fuori un rigore fuori logica come se glielo avessero regalato capito dai 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 per favore dai dai pure tu bizzotto non ti ci metti pure tu grande giornalista bizzotto ma non ti mette a fare che fare pure tu il come si dice l'amicone di adani perché veramente c'è veramente anche o anche stasera avete visto come al gol che poi non è non è di ronaldo perché non esulti così con ronaldo perché rispetto come dici tu rispetto per il miglior marcatore della nazionale di tutto il mondo di tutta la storia rispetto per il miglior marcatore della storia dei mondiali molto devi stare muto e invece non l'hai fatto non l'hai fatta e come mai e come mai non l'hai fatto stasera è sempre lui sempre lui alla fine secondo me non la tocca io me ne ho accorto subito come l'aveva toccata infatti ho aspettato un attimo pensavo fosse anche fuori gioco poi dopo 3 4 5 minuti ha detto che la fifa ha dato il gol a bruno fernandez però fatto sta che quello rimane perché quello sembrava gol di cristiano ronaldo e tu e tu esultato che goleador ha detto solo che goleador ronaldo ma veramente ti dovresti vergognare guarda anche stasera ti dovresti vergognare non tanto per la seconda cosa di messi che l'hai superata stasera l'hai superata alla grande c'è veramente che goleador è riuscito a dire soltanto che goleador così sarà contento il tuo amichetto è il tuo amichetto di bari mamma mia ma che veramente mi fa venire un nervoso mi fa venire quando fa le telecroniche quello lì troppo di parte troppo di parte o è questo già il terzo video che faccio guarda sentite le sentite le parole che dice sul gol di ronaldo è scandaloso ragazzi è scandaloso quell'uomo è scandaloso quando fa le telecroniche non si può sentire io non lo so guarda non lo so rispetto ci vuole più rispetto c'è ragione le stesse parole che detto tu le dovrei però dovreste avere sei proprio incoerente con te stesso 6 cioè questo anche stasera era lì perché alla fine non secondo me non l'ha toccata di un millimetro secondo me forse quei capelli l'ha toccata ecco questa qua dovrebbe prendersi dovrebbe prendersi ad anni non so se riuscite o se riesco a prenderla tu servire sti con l'ambulano perché chissà perché qualcosa perché non c'è i problemi tso ci vuole il tso per adani clamoroso anche stasera è riuscito a superarsi un'altra volta io non ho più parole non ho più parole parlando della partita a voi ha detto l'uruguay meritava di vincere con la corea l'uruguay ragazzi c'è c'è dei bei giocatori ma mi sembra l'atletico madrid delle nazionali tale quale proprio cioè spiaccicato speculano poi vabbè ha avuto una grande nel primo tempo ho avuto la grande occasione con bentancur che ha fatto una magia grande il portiere del portogallo forte diego costa sempre sulla lista è quello c'è quindi ne sto ne sto prendendo abbastanza di giocatori quindi io questo video lo chiamerò rispetto per cristiano ronaldo ancora perché già avevo fatto uno prima del mondiale rispetto per il re andato a voler vedere ma qui vedo che di rispetto non ce l'ha nessuno per un altro cioè veramente è un uomo da solo veramente rispetto per chi insieme a messi quest'ultimo impegno si siede sul posti sul podio si siede sul trono insieme a quell'altro però sei troppo di parte troppo di parte anche stasera anche stasera non mi smetterò mai di dirlo troppo di troppo disrispetto per ronaldo e sta cosa qui non va bene non va bene perché c'è troppa differenza tra l'altra sera gol di messi e stasera con il gol di ronaldo che ripeto poi dopo è stato visto e gli hanno dato il gol a bruno fernandez non proprio secondo me andresti bannato cioè proprio non dovresti fare le telecroniche ma fai le telecroniche faziose cioè fatti soltanto le telecroniche dell'argentina anche se secondo me tu non tifi l'argentina tu tifi uruguay l'hai sempre detto tu l'hai sempre detto io sono dell'uruguay l'uruguay la patria del calcio perché nel 1950 battè il brasile in casa sua al maracanata tutte storie comunque bella la storia dell'uruguay ci mancherebbe ma tu che cazzo c'entri con l'uruguay cosa c'entri con l'uruguay con tutto il sud america tu che cazzo c'entri cioè tu sei italiano a fine prova contraria tu sei italiano e in nazionale mi ricordo che tu partite ne facesti veramente poche diciamocelo perché ripeto adani molto molto meglio come telecronista che come calciatore cioè quando la gente gli dice scarso lui si offende anche capito io me lo ricordo ero anche piccolino ma le partite me le ricordo ho iniziato a seguire il calcio proprio giornata per giornata nel 2000 quando avevo sette anni e le partite di adani me le ricordo non tutte perché alla fine non spiccava mai adani però veramente non era veramente scarso e non c'è bisogno che ti offendi perché è la verità è la verità comunque il portogallo qualificato agli ottavi di finale l'uruguay adesso spero che esca veramente spero che esca a me non mi sta antipatico l'uruguay perché non mi ha fatto niente di male però sapendo che la tifa danni veramente godo se va fuori l'argentina l'uruguay vabbè il brasile è già passato ma il brasile è la più forte diciamo c'era tutto il brasile è la più forte per giocatori per gioco per tutto assolutamente quindi la reazione questa 2 a 0 a casa via questa sera ha giocato portogallo contro uruguay e adani detto questo il video può finire qui sono contento che il karma esiste perché anche stasera io l'ho sentita tutta la telecronica di parte dire poco c'è veramente di parte la telecronica di dire di parte dire poco comunque forza portogallo questo mondiale portogallo brasile o francia secondo me poi in mezzo alle 4 in mezzo a queste tre ci metterei anche la spagna tra queste quattro squadre qui ci sarà la vincitrice della coppa del mondo ricordatevi di questo video quando quando ci sarà la vincitrice appunto del mondiale continuate iscrivervi al canale perché vedo che gli iscritti piano piano salgono ma le visualizzazioni così e così quindi a me non mi interessa salire di iscritti per poi se poi i miei video non se li guarda nessuno quindi continuate iscrivervi guardatemi i miei video non mi sembra di dire cose campate per aria anzi mi sento abbastanza competente proprio ho una presunzione che ho nella mia vita e penso di essere competente quando parlo di calcio quindi continuate iscrivervi guardate i miei video mi piace condividi ciao a tutti